Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il Suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignuola non consuma, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo, se il padrone di casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate.